buonasera a tutti appassionati di storiografia militare bentornati nuovamente sintonizzati sul canale di venessia 90 allora come avete visto un paio di giorni fa feci non una recensione ma perlomeno presentai presentai questo libro mi dispiace se vi risulta ad effetto specchio ma ve lo dico io di che libro si tratta scritto dal professor luca valente dieci giorni di guerra 22 aprile 5 maggio 1945 la ritirata tedesca e l'inseguimento degli alleati in veneto e di trentino regioni che io conosco molto bene soprattutto il veneto in quanto lo avrete sentito dal mio accento sono veneto e veneziano in primis e quindi sono fatti che riguardano le zone dove vivo e dove sono nato ora se vi ricordate qualche mese fa avevo fatto una live con metal mike riguardo a un commento che mi era stato fatto nel mio canale di un tizio che aveva detto che per l'esercito tedesco la campagna d'italia fu una vittoria e che la repubblica sociale italiana e le loro forze armate le forze armate della repubblica di salò non furono un fallimento ma un successo naturalmente questo detto senza uno straccio di fronte o di documento come è d'abitudine a fare a molti che commentano nel mio canale che esprimono i loro pareri per carità cristiana ognuno ha il diritto di esprimere pareri proprie idee ci mancherebbe altro però quando si tratta di storia come dice il professor barbero alessandro barbero si dovrebbe un attimino lasciare da parte la memoria e basarsi su fonti documenti cose attestate e provate e la maggior parte delle persone che vanno a contestare quello che dico e succede anche nel canale di metal mike non presentano mai una fonte quindi io dico sempre potete essere contrari a quello che dico ci mancherebbe altro ma presentate in una fonte che vada a contestare quello che dico allora si può discutere quanto che si vuole se no le vostre parole sono solo scorreggia il vento scusate ma io parlo come mangio quindi da questo magnifico libro anche se ne sono solo all'inizio vi volevo un po raccontare com'era la situazione delle armate tedesche in italia appena si scatenò l'offensiva alleata di primavera o conosciuta anche come offensiva finale che diede il colpo di grazia alle armate tedesche attestate sulla linea gotica e sul fronte appenninico ora il professor valente ci va a parlare di quello che successe dopo appunto dopo l'offensiva alleata dopo l'inizio dell'offensiva alleata che fu un'offensiva con una portata straordinaria cioè insomma molto spesso cosa succede nei libri di storia che trattano la campagna d'italia si fermano sempre all'inizio dell'offensiva di primavera o la fine delle operazioni del 1944 sul fronte appenninico con il famoso programma di alexander con gli alleati che si stanno riorganizzando e preferiscono fare dei piccoli attacchi di leggerimento sul fronte degli appennini per migliorare le posizioni ma non si parla mai di quello che avvenne dopo lo scatenarsi dell'offensiva di primavera da parte degli alleati lungo la linea di tre fiumi e vi cito jeffrey cox può essere uno di quelli nel suo libro la corsa per trieste fonte principale dal quale il professor valente attinge informazioni oltre che a quello che successe nei dieci giorni successivi di guerra vera perché fu guerra vera prima della capitolazione dei dei tedeschi sul fronte italiano quindi ora ora andando a ripescarvi un documento perché il professor valente si basa su documenti tedeschi britannici americani ma soprattutto anche italiani che vanno a ripescare molti molte fonti per quanto riguarda l'operato della resistenza dei partigiani oltre le linee nemiche al di là del mito e del fango che si getta ad esempio ogni 25 aprile quindi vi volevo un attimino parlare di com'era la situazione dei tedeschi sul fronte italiano nell'aprile 1945 e ve lo riassumo disastrosa e adesso vi vado a leggere un rapporto di uno degli ufficiali che comandava uno di reparti che appunto erano attestati a sud a sud del buonanotte a sud del fiume po scusatemi quindi il 17 aprile il 17 di aprile 1945 a recoaro nell'alto vicentino località delle piccole dolomiti tra l'altro sede del comando supremo della wehrmacht in italia c'è anche un famoso bunker dove non so se si possa andare a visitare ma comunque si tratta del comando sud ovest della wehrmacht che operava in italia fra il 1944 ed il 1945 si svolse una riunione per discutere del difficilissimo momento lo stato maggiore tedesco fece il punto della situazione l'ober quartier meister colonnello fandrich relazionò sullo stato degli approvvigionamenti appunto sì questo video dedicato alla logistica quindi egli comunicò che la sorte dei materiali erano esaurite e che carri armati e veicoli avevano carburante per non più di 50 chilometri è poco se ci pensate che dovevano anche manovrare per andare da un punto all'altro del fronte a tamponare le falle e vi faccio un esempio ad esempio e vi faccio un esempio con la novantesima panzergnadier continua il colonnello fandrich dopo i 50 chilometri li dobbiamo lasciare fermi aggiunse che le scorte delle munizioni si sarebbero esaurite nei successivi 3-4 giorni e che molti pezzi dell'artiglieria pesante e molti cannoni antiaerei non potevano essere alimentati perché non c'erano più proiettili e erano indispensabili per contrastare lo strapotere dell'aviazione anglo americana che veramente martellava e non lasciava tregua a i reparti tedeschi che iniziavano a ritirarsi verso nord che cercavano soprattutto di raggiungere la linea oltre il fiume po i magazzini di cui la wehrmacht disponeva intorno a bologna o erano già caduti in mano al nemico o risultavano inutilizzabili per la mancanza di mezzi di trasporto infine era una settimana che non arrivava alcun rifornimento dal reich e non è sicuro se possiamo attendere qualcosa nei prossimi giorni fu poi la volta del generale schnitz che descrisse la situazione dei trasporti in queste parole premesso che le stazioni ferroviarie di innsbruck e salisburgo in austria erano bloccate a causa di un gigantesco ingorgo ferroviario provocato dal materiale che tornava indietro da tutte le parti ma in particolare dalla zona di vienna schnitz sottolineò il fatto che in italia le linee ferroviarie sono diventate praticamente inutilizzabili per gli incessanti bombardamenti degli ultimi giorni a ciò andava aggiunto che gli italiani che finora avevano impiegato in gran numero specialmente sulla linea del brennero per lavori di riparazione inquadrati nell'organizzazione tod da alcuni giorni semplicemente mi scappano via e non rientrano più al lavoro il materiale per locomotive è diminuito a causa dell'abbattimento giornaliero di mediamente venti locomotive il martellamento da parte dell'aviazione alleata in modo tale che non ho praticamente quasi più mezzi ferroviari nella zona dell'italia settentrionale la rete elettrica delle linee aeree sul tratto del brennero è a pezzi di conseguenza su un lungo tratto non si può più viaggiare con locomotori elettrici si dovete ricorrere a locomotive con a vapore o con locomotori alimentati a gasolio ma come vi ho spiegato prima non c'era carburante per non farli andare avanti e quel poco carburante che restava a chi andava agli esigui mezzi corazzati che si spostavano da una parte all'altra del fronte e quei pochi veicoli che potevano ancora trasportare in maniera celere i reparti per sganciarsi dalle avanguardie corazzate alleate quindi i locomotori e i treni non potevano essere utilizzati tornando alla situazione del combustibile per il funzionamento delle ferrovie il carbone per il funzionamento basta ancora per sole poche macchine e per pochi giorni in questa situazione non credo che potremmo far passare nessun convoglio di rifornimenti provenienti dalla germania la realtà era dunque talmente disastrosa che il capo di stato maggiore reutiger su ordine del generale waiting off che andò a sostituire casering nel 1945 a comando del gruppo di armate c contattò subito lo che ve l'ober comando l'alto comando tedesco a berlino per chiedere il permesso di ritirata prima dell'imminente annientamento il generale jodel a capo dell'okv però confermò gli ordini di resistenza ad oltranza secondo le direttive di hitler la risposta fu messa per iscritto e inviata come messaggio segretissimo a recoaro terme il 18 aprile 1945 nel pieno svolgimento dell'offensiva alleata sulla linea gotica mi pare che questo rapporto sia alquanto chiaro sulla situazione disastrosa dei tedeschi e degli italiani di salò che combattevano al loro fianco quando si scatenò il piano grapeshot l'offensiva di primavera scatenata dagli alleati sul fronte italiano il 9 aprile se non erro 1945 e penso che qua ci sia poco da aggiungere state pronti perché nei prossimi giorni arriveranno altri video quindi io ho concluso se vi è piaciuto il video like iscrivetevi al canale che è gratuito commentate facendomi sapere le vostre considerazioni se avete aggiunte da fare sapete che sono a disposizione se volete contestare fatelo ma portate un documento una fonte che va a contrastare quanto dico quanto dico e se magari non siete d'accordo che per i tedeschi la campagna d'italia sia stata una passeggiata di salute come dicono roba io non ne sono molto convinto quindi potete anche condividere il video non sarà editato perché c'è poco da editare e da venese 90 è tutto io vi auguro buona domenica e ci vediamo ad un prossimo video ciao ne